Benvenuti in questa avventura alla scoperta dei Paesi Bassi. Preparatevi ad immergervi in un viaggio attraverso una terra incantata di canali affascinanti, mulini a vento iconici e città storiche. Rimarremo stupiti dalla bellezza di questi luoghi unici che rendono i Paesi Bassi una meta imperdibile per gli amanti della cultura, della natura e dell'avventura. Prima di cominciare, se il video dovesse piacervi, lasciate un like ed iscrivetevi al canale, per aiutarci a migliorare sempre più la qualità dei nostri contenuti. Cominciamo! Ecco la nostra personale top 10 dei luoghi da visitare nei Paesi Bassi. Amsterdam, la capitale dei Paesi Bassi, incanta con i suoi affascinanti canali e le case a schiera tradizionali. Con una ricca storia e un'architettura iconica, la città offre una vasta gamma di musei di fama mondiale, come il Rex Museum e il Van Gogh Museum. Amsterdam è anche conosciuta per il quartiere a luci rosse di De Waal nella sua atmosfera cosmopolita. La scena culinaria è variegata, dai caffè tradizionali ai ristoranti di fama internazionale. Noleggiare una bicicletta è un modo popolare per esplorare la città e immergersi nella cultura ciclistica olandese. Amsterdam è sicuramente una destinazione affascinante che combina storia, arte, cultura e vivacità urbana in modo unico. Delft, incanta con la sua bellezza tradizionale e il suo patrimonio storico. Celebre per la produzione di ceramica, questa affascinante città è caratterizzata da case e canali incantevoli. Il suo centro storico conserva l'atmosfera autentica dei secoli passati, con strette strade lastricate e un'imponente Audekerk, vecchia chiesa, che domina l'orizzonte. Delft è anche la città natale del celebre pittore Johannes Vermeer e il Museo Vermeer offre un'opportunità unica per ammirare le sue opere d'arte. Durante una passeggiata per la città si possono scoprire negozi di ceramiche tradizionali, accoglienti caffè e graziosi giardini. La città emana un'atmosfera tranquilla e romantica, rendendola una tappa ideale per coloro che cercano una fuga dalla frenesia urbana e desiderano immergersi nella storia e nella bellezza di una città olandese autentica. L'AIA, conosciuta anche come Den Haag, è il centro politico del paese, ospitando il Parlamento olandese e il Palazzo della Pace, sede della Corte Internazionale di Giustizia. Questa città cosmopolita vanta una ricca storia e un'architettura affascinante. Il centro storico è caratterizzato da ampie piazze, strade eleganti ed edifici storici, tra cui il Binnenhof, un complesso di palazzi che risale al XIII secolo. Il Mauritais è un museo rinomato che ospita opere d'arte di maestri olandesi come Vermeer e Rembrandt. L'AIA è anche famosa per le sue splendide spiagge, come Schäfenheven, che offre una lunga distesa di sabbia dorata e una vivace atmosfera balneare. Con la sua combinazione di politica, cultura, storia e bellezze naturali, l'AIA offre una varietà di esperienze affascinanti. Rotterdam. La seconda città più grande dei Paesi Bassi, è un'incantevole metropoli caratterizzata da una moderna e audace architettura. Questa città portuale, situata sulle rive del fiume Mass, è rinomata per i suoi grattacieli iconici e la sua vibrante atmosfera urbana. Il Marktal, un mercato alimentare coperto, è una delle attrazioni principali, con la sua spettacolare struttura a forma di ferro di cavallo. La torre della Rotterdam domina lo skyline, offrendo una vista panoramica mozzafiato sulla città. Esplorare il quartiere di Copp van Zheut è un'esperienza da non perdere, con la sua architettura all'avanguardia e i moderni bar e ristoranti sul lungo fiume. Rotterdam è una città dinamica e innovativa che offre una combinazione unica di cultura, design e paesaggi urbani mozzafiato. I TURN è un incantevole villaggio, noto come la Venezia dei Paesi Bassi per i suoi pittoreschi canali e ponti caratteristici. Questo luogo magico, senza strade percorribili in auto, offre un'esperienza unica in cui ci si sposta esclusivamente in barca o a piedi lungo i canali e i sentieri. Le case di paglia e le fattorie creano un'atmosfera da cartolina, mentre i giardini fioriti contribuiscono a creare una bellezza naturale senza pari. Durante una visita i TURN, si può godere di tranquille passeggiate in barca lungo i canali, ammirare la splendida architettura locale e rilassarsi nell'atmosfera rurale e serena. Il villaggio ospita anche numerosi musei che raccontano la sua storia e tradizione, permettendo ai turisti di scoprire le radici e la cultura di questa gemma nascosta. Utrecht è un tesoro nascosto ricco di storia, cultura e bellezze architettoniche. Il suo centro storico è caratterizzato da canali, case a schiera e una vibrante atmosfera universitaria. La maestosa torre della Domkirk, che domina l'orizzonte, offre una graziosa vista panoramica sulla città. Utrecht è anche famosa per le sue caratteristiche terrazze ai bordi dei canali, dove si possono gustare deliziosi pasti e rilassarsi con una vista spettacolare. La città è un vero paradiso per gli amanti dell'arte e della cultura, con una vasta gamma di musei, gallerie d'arte e teatri. Durante una passeggiata lungo i canali, è possibile scoprire negozi di artigianato, caffè accoglienti e vivaci mercati. Utrecht ha una personalità unica, che unisce la sua ricca storia con un'atmosfera vivace e cosmopolita. Maastricht Situata a sud, è una città che combina storia, cultura e bellezze naturali. Con le sue strade acciottolate e le piazze tipiche, Maastricht emana un'atmosfera antica e autentica. Il suo centro storico è un labirinto di vicoli, dominato dalla maestosa Basilica di San Servazio, un capolavoro dell'architettura romanica. È anche famosa per i suoi numerosi musei, come il Bonnefanten, che ospita una vasta collezione di arti antica e moderna. Conosciuta come una città universitaria, Maastricht offre una vivace vita notturna e una scena culinaria eccezionale, con ristoranti, caffè e bar accoglienti. La città è circondata da incantevoli paesaggi collinari, rendendola una base ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo i pittoreschi sentieri. Leiden. Una città storica, che incanta con la sua bellezza architettonica e il suo patrimonio culturale. Il centro storico è caratterizzato da strade tipiche, canali e case a schiera. La città è famosa per essere il luogo di nascita del celebre pittore Rembrandt, e il Museo Rembrandt offre una straordinaria collezione delle sue opere d'arte. Leiden ospita anche una delle più antiche università d'Europa, che aggiunge una vivace atmosfera universitaria alla città. Durante una passeggiata per Leiden, è possibile visitare la maestosa chiesa di San Pietro, ammirare i caratteristici mulini a vento e scoprire affascinanti musei e gallerie d'arte. Circondata da bellissimi paesaggi, è sicuramente un'oasi di storia, cultura e bellezze naturali che cattura l'immaginazione di chi la visita. San's Chance È un villaggio che sembra essere uscito da una cartolina. Situato nella regione della Zahan, è famoso per i suoi mulini a vento iconici, le casette in legno verdi e le tradizionali botteghe artigiane. Questo museo all'aria aperta offre un'immersione nel passato, permettendo ai visitatori di scoprire la storia dell'artigianato tradizionale olandese. Camminando per le sue strade, si possono ammirare i mulini funzionanti, come il famoso Descartes, utilizzato per macinare pigmenti, e il Dezoeker, utilizzato per produrre olio. Ci sono anche musei che presentano la produzione di formaggio e cioccolato, dando la possibilità di degustare queste prelibatezze. San's Chance è un luogo pittoresco, dove il tempo sembra essersi fermato, offrendo una finestra sul passato storico dell'Olanda. Texel La più grande delle isole frisone occidentali è un paradiso naturale. Questa isola affascina con le sue spiagge di sabbia dorata, le dune ondulate e i paesaggi mozzafiato. È una destinazione ideale per gli amanti della natura, con riserve naturali che ospitano una varietà di flora e fauna uniche. Le possibilità di escursioni a piedi o in bicicletta sono infinite, offrendo l'opportunità di esplorare le coste selvagge, i boschi e le cittadine tipiche dell'isola. Texel è anche famosa per la sua produzione di formaggio, e le fattorie offrono visite guidate e degustazioni. Si possono anche avvistare foche nel Parco Nazionale del Mare di Waden, gustare deliziosi piatti di pesce fresco nei ristoranti locali e godersi la tranquillità e la bellezza naturale dell'isola. Per ora, il nostro viaggio termina qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per noi è molto importante. Seguiteci nei prossimi video per conoscere tante altre località suggestive ed emozionanti.